Buongiorno, questo è Alfredo, il mio papero domestico e guarda un po' qua c'ho una sorpresa per te guarda un po' che ho trovato, che sono questi? vabbè non ci arriverai, questi sono due pulcini di pavone sono nati stamattina, stanno con la chioccia, guarda quanto sono belli questi sono due pavoncini blu, il pavone quello normale, quello tradizionale ma la cosa figa è che questi sono i tuoi, appena ci avremo modo di vederci ti regalo la chioccia con i pulcini così ricrescerei e c'hai due pavoni, hai visto?